Siamo pronti? Ok, 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 Diego. Allora, buonasera cari amici, cari giovani, cari tutti ascoltatori, ecco che bello, che bello ritrovarsi insieme, tutti quanti, grandi e piccini. Ecco, questa sera io volevo rivolgermi un po' ai ragazzini e con l'altro giorno mi è capitata una cosa un po' strana, ecco, stavo mangiando una bella fetta d'arrosto con le patate, ero tranquillo, ecco, in parrocchia a un certo punto mi è venuta voglia di chiamare la perpetua, però stavo mangiando, mi è andato il boccone di traverso, ecco, ho incominciato a tossire come un matto e che stavo veramente molto male. Per fortuna è arrivata di gran corsa la perpetua, che mi ha dato un colpo, qualche colpo sulla schiena, io ho guardato in su e finalmente poi mi è passato tutto anche con un buon bicchier di vino. Ecco, questo episodio mi ha fatto fare una riflessione, ecco, ogni cosa va fatta a suo tempo, ecco, prima si mangia, ecco, e poi si parla, oppure prima si parla e poi si mangia, in due momenti distinti, se no succedono questi guai. Un po' come per dire le preghiere, le preghiere, ecco, vanno dette in momenti precisi, pieni di raccoglimento e di riflessione, ecco, non bisogna dire le preghiere a letto prima di addormentarsi, perché poi cosa succede? Ricordatevi che le preghiere dette a letto, ecco, cominciano in italiano e finiscono in russo, ecco, avete capito? Quindi ricordo tra l'altro, quindi per i ragazzini questo insegnamento, vi ricordo che tra l'altro sabato prossimo ci sarà la grande sfida di calcio barilla nel cortile della parrocchia, mi raccomando portate le palline perché la parrocchia ne ha poca, potete andare allo San o al Famila, per due euro ve ne danno un bel po', eh, state tranquilli. Ben, ci vediamo sabato e tanta gioia a tutti quanti, arrivederci, bene, grazie. Diego, eda mi fai ridere, mi fai sei un birbantete.